Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a inaugurare una nuova sezione del canale YouTube. In molti mi hanno chiesto di fare delle recensioni di alcuni film in uscita o in generale di fare delle recensioni filmiche, ebbene sono qui oggi a inaugurare questo nuovo format di Dama Recensisce. Ho deciso di aprire questa nuova rubrica, questo nuovo formato, con Animali Fantastici 3, i segreti di Silente. Terzo capitolo della serie Animali Fantastici, prequel della mitica serie di Harry Potter, mondo magico creato da J.K. Rowling che io adoro in una maniera smisurata. Sono cresciuto praticamente con Harry Potter, con tutti i libri, ho vissuto proprio l'attesa spasmodica dell'uscita degli ultimi libri e degli ultimi film, per cui io sono cresciuto con Harry Potter. Sin da subito ho avuto delle perplessità con Animali Fantastici, però quando uscì il primo film, onestamente è stato un bel ritorno e il primo capitolo mi piacque abbastanza. E prese molto anche perché c'erano gli Animali Fantastici, queste bellissime creature mitologiche, colorate, bizzarre, ed era un aspetto del mondo magico che non era mai stato esplorato prima. Come primo prequel funzionò, ma già in quella pellicola lì era evidente che la pentologia prevista di Animali Fantastici avrebbe dovuto un attimino evolversi per portare avanti una certa poetica, una narrativa, un universo condiviso, una trama unica. Però diciamo che come primo film, come introduzione del nucleo di protagonisti principale, ha funzionato abbastanza bene. Il secondo capitolo invece no, anzi si è rivelato abbastanza macchinoso, sofferente, e che alla fine si è un pochino incartato nel mistero, nel crimine, non sapeva bene che direzione prendere. Quindi c'era tantissima attesa per questo terzo capitolo, I segreti di Silente. Diciamo che il marketing l'ha venduto molto bene, il trailer ha fatto un effetto della madonna, perché se voi vedete il trailer, carica alla grande e crea curiosità e interesse verso questo terzo capitolo. Anche il titolo, I segreti di Silente, è un titolo accattivante, che acchiappa, che prende, e che istiga curiosità, che invoca la visione. Ebbene, io sono andato a vedere il film nella mia sala di riferimento, qua c'è il biglietto del cinema, e il film non mi ha preso ragazzi, ve lo dico subito, il film non mi è piaciuto, complessivamente l'ho trovato lento, macchinoso, la prima ora, almeno i primi 70-80 minuti, madonna, lenti, noiosi, che non hanno preso ragazzi, in generale il film non decolla mai, è troppo simile ai crimini di Grindelwald, con una prospettiva leggermente diversa, ma gira a gira ha riproposto la stessa cosa. Il capitolo precedente aveva spazzato via gli animali fantastici, quindi aveva, diciamo, cancellato tutte le cose belle che il primo capitolo aveva messo in scena. Questo terzo capitolo è una sorta di ibrido tra i due precedenti, perché riporta in scena, riporta in primo piano, un elemento importante, una creatura del mondo magico, e quindi sotto questo aspetto qui mi è piaciuto molto. Però per il resto è molto simile ai crimini di Grindelwald, cambia un attimino la prospettiva, perché nel precedente capitolo Silente veniva accennato, il suo ruolo era, diciamo, più come esterno, invece questo terzo capitolo iniziamo a seguire la sua scesa. E basta, alla fine le due ore e venti di film sono serviti per quei venti minuti in cui Silente rivela il segreto su Credence e si libera dal, diciamo, dal patto di sangue che lo lega a Grindelwald. Quindi, diciamo, solo venti minuti sono essenziali in questo film, ma il procedimento, il percorso che porta a tutto ciò è stato gestito in una maniera talmente grossolana, senza colpi di scena, senza momenti epici, non si capisce neanche molto bene come si fa ad arrivare a determinati punti. Lo stesso mistero su Credence viene svelato così, non c'è un perché, non vengono portati i perché, i perché vengono detti, ma sono talmente banali che da una serie filmica, da una saga, da una mitologia così ricca, corposa e così ben costruita, ci si poteva aspettare nettamente qualcosa di più. Ha due o tre pregi, il principale pregio, come vi ho detto, è che riporta in auge, riporta in primo piano, un animale fantastico, quindi l'aspetto animali fantastici in questo terzo capitolo viene un attimino comunque rinfrescato, viene comunque utilizzato e sfruttato, viene posto comunque, diciamo, come fulcro dell'intera vicenda, ed è un bene, e secondo Mad Mikkelsen si rivela un antagonista migliore di Johnny Depp. Johnny Depp sembrava una caricatura, la classica macchietta che aveva fatto negli ultimi anni, composta solo di trucco e parrucco, ma niente di più, invece Mad Mikkelsen si rivela un villain, un cattivo, nettamente più sostanzioso e solido. La sua performance è nettamente migliore e funziona, funziona molto bene. Lui e Jude Law formano una bella coppia, quindi diciamo che vanno molto bene, l'aspetto Mad Mikkelsen non mi ha fatto rimpiangere Johnny Depp. E terzo, vale per quei venti minuti lì, perché comunque il finale anche lì fa presagire che ci sarà un mega scontro. Adesso è vero che sono previsti cinque film, e questo è il film di mezzo, è il film di svolta, però si è anche rivelato un film, come vi ho detto prima, che non ha nulla, non sa neanche ancora bene che direzione prendere. Noi sappiamo che alla fine Silente sconfliggerà Grindelwald, perché lo sappiamo nei libri, ma diciamo questa serie prequel ricostruita in modo retroattivo non sta prendendo. Si evince che, non dico che è improvvisata la mitologia, però non si vede ancora tutto questo legame, questo mondo coeso, questa struttura ben coesa come c'era in Harry Potter. Qua sembra tutto un pochino avvenire tutto in modo un po' forzato. Jacob e Newt sono i due personaggi principali, poi tutto il resto, ci sono personaggi che entrano, escono di scena, si aggiungono anche personaggi che non c'erano mai stati presentati prima, per esempio c'è la professoressa X, che nessuno di noi aveva mai visto prima, che nessuno aveva mai conosciuto, che francamente a noi non ci interessa neanche conoscere. e in questo film qui viene messa come tra i personaggi principali. Io per esempio avrei preferito la professoressa McGranit, un personaggio che conosci e che hai apprezzato e che sarebbe anche stato bello vederlo da giovane. Potevi dire, abbiamo visto Silente da giovane, era così. Sarebbe stato anche bello vedere la professoressa McGranit da giovane avere un ruolo importante all'interno della storia degli animali fantastici. Magari ciò avverrà più avanti, però anziché la professoressa X sarebbe stato, secondo me, più idoneo mettere lei in rilievo piuttosto che un'estranea messa così a casaccio che non avevamo mai visto prima. E poi anche l'evoluzione diciamo degli antagonisti e l'evoluzione di alcuni personaggi principali non mi è piaciuto. La stessa Queenie che nel precedente capitolo era passato diciamo dal lato dei cattivi inspiegabilmente ha un arco narrativo molto grossolano per nulla approfondito e il suo percorso boh ha un ha un cambiamento così come era passato improvvisamente al lato oscuro così ritorna tac così e ci sono tanti altri personaggi che hanno un'evoluzione non proprio congrua allo stesso Credence che era stato caricato a mille nel finale dei crimini di Grindelwald uno si poteva aspettare che avrebbe fatto fuoco fiamme distruzione terrore di qui di là invece alla fine si è rivelato una sorta di blef un elemento che è servito solamente per incuriosire i farm per creare quell'aura di mostiero ma poi sul lungo periodo non serva nulla non serva nulla e quindi tutte quelle aspettative alte che aveva creato il precedente film questo capitolo qui le distrugge i segreti ci sono i misteri ci sono ma vengono gestiti in una maniera talmente grossolana che non prendono mi è sembrato tutto un po' una forzatura la stessa assenza di Tina si sente manca pensavo che alla fine sarebbe comparsa in qualche colpo di scena finale in realtà si compare ma giusto tanto per farla vedere per chiudere un arco narrativo per chiudere un aspetto finale che ci interessa fino a un certo punto è stata una delusione su tutti i livelli questo film i segreti di Silente davvero sono rimasto deluso annoiato e perplesso perplesso perché io da amica fan di Harry Potter mi aspettavo un attimino un cambiamento di ritmo sarebbe stato più idoneo non lo so far vedere che vincevano i cattivi un po' come è successo nel secondo capitolo andarci più a fondo e incentrare un film proprio scuro cattivo magari con qualche morto con qualche personaggio secondario che moriva per far capire che in realtà questo Grindelwald che in realtà il cattivo Grindelwald fa sul serio ed è una vera e propria minaccia per il momento non fa così tanta paura il cattivo sappiamo solo che è un cattivone che ha dato un grande filo da torcelo perché in Harry Potter viene citato così nei libri viene citato così ma da colui che è una sorta di rappresentazione del terzo Reich del nazismo ci si poteva aspettare una scesa a mo' di Hitler cosa che è stata più o meno costruita in questo terzo capitolo qui ma non avviene nel senso le intenzioni sono quelle ma poi il percorso non è quello anzi quindi è tutto mi scuso se questo video recensione è stato un pochino un minestrone un pastrocchio ma non ho fatto una scaletta il primo film lo sto facendo un attimino a braccio post visione filmica e nelle prossime video recensioni seguirò una sorta di scaletta mi preparerò bene le argomentazioni per offrirvi una recensione chiara trasparente e di facile comprensione fatemi sapere nei commenti se voi avete visto Animali Fantastici 3 i segreti di Silente se a voi è piaciuto o non è piaciuto e fatemi sapere se questo nuovo format da ma recensisce può essere di vostro interesse io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto